Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento e sono tornato qui perché qui c'è una parte dei miei avi, il mio trisnonno Sollazzo Nicola era un commerciante e qui aveva un palazzo praticamente che era dedicato anche a lui e possiamo ancora notare le sigle sul portone che adesso vi faccio vedere. Siamo a un po' di chilometri da Orsara di Puglia ma sono tutte zone interessanti, belle, del Beneventano diciamo quello alto, a confine col Foggiano e il Molise diciamo. Ecco come potete vedere, adesso si apre qui, il portone è lì. Nicola Sollazzo 1920, fortuna assistimi, invidia crepia. Qua davanti al palazzo del mio avo, Nicola Sollazzo, attenzione, non lo fa il zoom, zoom top 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 top